Buongiorno a tutti, dato che siamo nel periodo dei fichi, preparo dei biscottini con i fichi. Mi occorre 400 g di farina 00, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, 30 g di noji, 30 g di cioccolata fondente, un limone grattugiato, 200 g di fichi, 3 uova, 100 g di burro, 120 g di zucchero, estratto di vaniglia. Inizio con preparare i biscottini. Nella farina metto un pizzico di sale, metto il lievito per dolci, aggiungo anche la scorza del limone grattugiato, lo zucchero e la vaniglia. Aggiungo anche le gocce di cioccolato. A questo punto metto le uova e il burro ammorbidito. Mescolo. Mi aiuto con le mani. L'impasto è pronto. Ora preparo i biscottini. Ho messo la carta da forno su una teglia. Prendo un po' di impasto, lo lavoro con le mani. Faccio questa forma. Premo con le dita e metto i fichi che precedentemente ho fatto a pezzetti. Metto due pezzettini di fichi e due o tre pezzettini di noce che ho fatto anch'essa a pezzetti. e continuo così. A presto. 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 pronti li vado ad infornare in forno caldo e statico a 170 per 30 minuti eccoli pronti da gustare ne apro uno grazie della visione alla prossima iscrivetevi al canale condividete mettete mi piace